jingle bell jingle bell jingle old way sul sul simer e non bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale io sono valuccia sims e oggi siamo qui con il vostro regalo di natale ebbene sì ragazzi ho pensato che fosse giusto come per i bambini la mattina di natale svegliarsi e trovare i regali sotto l'albero lasciati dal caro babbo per voi invece lasciare il mio regalino questa mattina ovvero una nuova sfida ragazzi ebbene sì ero da tempo molto indecisa se portarla o no sul mio canale non per qualche motivo c'è un motivo particolare perché più che altro avevo paura di annoiarvi avevo paura poi di riempire troppo il canale però mi sono detta alla fine che siete liberissimi di guardarla o no prima di tutto secondo ci sono moltissimi canali dove ci sono tantissime playlist in confronto il mio canale si può dire che è vuoto rispetto a molti altri che appunto fanno gameplay con the sims 4 così quindi ho pensato perché no alla fine se vi fa piacere guardarla bene se non mi fa piacere guardarla avete avete molto alto sul canale da poter guardare e ringrazio rike all perché comunque mi ha dato la spinta finale per effettivamente portarla sul canale in quanto anche lei ha da poco cominciato questa sfida di cosa sto parlando ragazzi per chi vede questo può notare insomma meglio per chi è esperto di challenge e nota questo colore particolare di capelli ragazzi perché sapete sapere che la parola chiave in questa sfida ragazzi è il colore ebbene sì lo avrete capito ma anche per chi non l'ha capito ve lo dico io è la not so berry challenge la sfida dei colori ragazzi in che cosa consiste molto semplicemente vi vado a leggere perché io ho preso le regole comunque da simworld.it quindi vi leggo proprio le regole se vi piacciono i colori e le sfide questa è la challenge che fa per voi questa prova consiste in una sfida generazionale infatti lo scopo principale della sfida è proprio quello di accostare dei tratti delle aspirazioni e delle caratteristiche fisiche a tutti i sim della stessa generazione a cui appartengono ogni sim erede deve rispettare le caratteristiche e il colore della generazione a cui appartiene le skin possono essere differenti infatti come potete vedere io ho messo una skin personalizzata con tanto di lentiggini perché si le amo non posso farci niente i colori dei coniugi non hanno importanza perché non fanno parte della sfida e i sim possono vivere in qualsiasi quartiere a meno che non sia specificato un cambiamento nelle regole generali io ho deciso di partire ragazzi indovinate da quale quartiere ho deciso di partire dopo varie mettiamo pausa se non perdiamo così tutto il tempo dopo varie riflessioni ragazzi miei ho deciso di partire proprio da uno dei quartieri che più amo avrete capito di quale quartiere si tratta per chi gioca a the sims vedendo lei praticamente che è la regina di questo quartiere per quanto mi riguarda e bene sì ragazzi sono partita da brindleton bay perché ho pensato che comunque il quartiere meno con cui ho meno tempo per giocare perché gioco soltanto quando registro cucciolosamente piper oh mio dio ragazzi un aereo in cielo e quindi lì da dico veramente molto poco tempo registrando cucciolosamente piper solo una volta a settimana quindi e soprattutto giocando soltanto quando effettivamente registro quindi ragazzi ho scelto brindleton bay spero che vi piaccia come scelta comunque anche perché tanto non vi preoccupate all'interno della sfida cambieremo dovremo cambiare quartiere in più di un'occasione quindi non vi preoccupate dicevo poi ogni generazione deve arrivare al culmine della propria carriera e completare la propria ispirazione a meno che non ci siano dei cambiamenti inseriti nelle regole generazionali regole generali del gioco la durata della vita deve essere impostata su normale e ho impostato la vita su normale ragazzi ve lo mostro immediatamente perché per una questione di correttezza mi pare anche giusto io tutte le volte mi perdo in modalità di gioco vero durata della vita del sim normale io ho tolto il liber arbitrio perché comunque non è obbligato averlo attivo e il passaggio d'età solo per unità familiare attiva ragazzi perché mi trovo meglio giocare così sinceramente ecco qua poi torniamo a noi oh questa è una cosa interessante è consentito solo l'utilizzo del mother load seppur non eccessivo e del free real estate per l'acquisto della prima casa altri trucchi non sono ammessi e io ragazzi visto che si parla della casa prima di andare a presentare la prima generazione e quindi il mio signino perché comunque sendo una lega una legacy generazionale comprenderà ovviamente ragazzi 10 generazioni dovrò affrontare 10 generazioni oggi ce la faccio a parlare come la legacy challenge classica quindi quella che sto affrontando con la famiglia redfield eccoci qua ragazzi questa meraviglia l'ho scaricata con ovviamente il suo consenso dal dalla galleria quindi dal profilo di chiara underscore 88 channel è sempre lei ragazzi la mia musa ormai per quanto riguarda la costa le costruzioni di case quindi aveva questa casetta molto carina che io dal valore di tipo 129 mila simoleon se non ricordo male ora vi mostro perché sì ragazzi visto che potevo utilizzare il trucco free real estate ho pensato io non so creare case cioè non sono brava a costruire quindi è inutile che mi metto perdere tempo a costruire una casa anche perché ragazzi in altre challenge l'ho fatto per esempio la legacy challenge la casa l'ho dovuta costruire io per forza per quanto riguarda anche per esempio non so la la rex to riches o per quanto riguarda ad esempio la 100 baby challenge quindi stavolta per questa challenge ho pensato la disney legacy challenge anche l'ho costruita io quindi effettivamente ragazzi stavolta ho pensato me la prendo già costruita se volete scaricarla andate sul id origin l'id origin scusate di chiara è come dicevo prima chiara underscore 88 channel e la villa si chiama villa familiare io ho cambiato soltanto i tratti dell'otto poi vi spiego perché ho messo su una linea temporanea ricco dell'energia tipica della terra fertile qui spesso nascono dei gemelli conviviale l'atmosfera spaziosa ma intima rende più facile sviluppare apprecimento il carisma la comicità e la malizia e infine covo scientifico l'atmosfera appartata indica che le grandimenti dedite allo studio della logica o della missilistica non si distrarranno facilmente questa casa ha quattro camere tre bagni è un lotto 40 per 30 quindi l'ho messa per chi segue cucciolosamente piper nel lotto dove praticamente c'è la clinica quindi nel lotto vicino al porto nella zona portuale e il valore dell'otto 129.991 si moglie non l'ho ancora toccato in niente ho solo cambiato i tratti che c'erano di partenza perché perché ovviamente ho scelto dei tratti che sono inerenti comunque al mio sim ragazzi allora vi premetto che con il consenso di chiara posso apportare delle modifiche alla casa e le modifiche la modificherò non perché la casa non mi piaccia ragazzi perché ho dato uno sguardo prima di entrare nella registrazione a registrare ed è fantastica come tutte le case che crea lei del resto perché essendo questa una legacy generazionale che si basa sui colori volevo appunto cambiare i colori all'interno della casa alcune cose dei mobili così sulla base delle rede al comando diciamo quindi per ogni generazione questa casa cambierà un po non nella struttura perché veramente ragazzi è bellissima perfetta io mai sarei riuscita a creare una cosa del genere però per quanto riguarda i colori sì allora ve la mostro questo è l'esterno partiamo qua appunto con il davanti questo è il nostro semino che però vi presenterò più tardi allora questa è l'entrata ragazzi della nostra casetta non ho portato modifica adesso perché giustamente ve l'avevo mostrare prima nella sua versione originale qui loro possono sedersi all'esterno i sim per appunto prendere un po' d'aria fresca stare un po' fuori così e qui c'è una parte molto carina e trovo estremamente realistica del garage no con appunto il canestro e accessori per i vari per il sia per il basket che per la come si chiama sto sport ragazzi il football sì penso di sì comunque allora entriamo nella casa ragazzi siete pronti pronti partenza via allora appena entrati ragazzi miei guardate che splendore ci troviamo un salottino quindi qua il il mobiletto diciamo no io al momento non ho bambini quindi molte cose effettivamente le potrei vendere ragazzi però poi vedremo dai e quindi questo mobiletto appunto il salotto con questo mobiletto qua per la tv con però penso qua giusto una console poi vediamo magari lei ce l'ha messa e non ci ho fatto caso però allora qui c'è una libreria qui una scrivania come potete vedere un archetto poi andremo a vedere cosa c'è e qui come potete vedere la casa ragazza è stata pensata ovviamente villa familiare per una famiglia quindi per i bambini anche così passiamo qua andiamo avanti mi piace tantissimo questa cosa tipo questo rialzetto così e qui c'è la cucina ragazzi guardate che meraviglia è veramente meravigliosa eccola qua bellissima mi piace tantissimo e come potete vedere a questo punto direi di completare la cucina c'è una porticina che ci conduce dove ragazzi all'esterno dove c'è il barbecue vedete che bello tavolino da barbecue roba qua un po di giardinaggio no decorazioni varie eccoci qua torniamo nella casa io non vorrei far perdere troppo tempo perché vorrei anche presentarvi questo vabbè che è un video di presentazione ragazzi quindi non è il gameplay vero e proprio sapete che l'episodio zero è sempre presentazione del personaggio vi dico le regole insomma un po di cose così allora siamo entrati in casa abbiamo detto e qui abbiamo visto tutto appena entrati andiamo a vedere cosa ci troviamo direi la precedenza qua sulla sinistra perché obiettivamente è la prima diciamo il primo archetto che troviamo qui c'è un corridoio magari qua metterò giusto qualche quadro qualche pianta così e la prima porta che ci troviamo andando sul corridoio sulla sinistra scusate ragazzi no in realtà la prima porta è questa qua e c'è è una stanza come potete vedere per una toddlerina bambina comunque e siccome io ho pensato che mi piacerebbe farle avere almeno tre quattro figli perché sapete che io amo le famiglie comunque numerose ormai chi mi segue da un po' lo sa eccola qua ragazzi questa è la stanza devo dire è bellissima ricchissima di ogni cosa mi piace tantissimo è arrivata molto bene non sento la necessità di apportare delle modifiche anche perché al momento è una stanza che non userò ovviamente lui non ha figli quindi non c'è bisogno ma vedete anche la tv cioè mi piace veramente tanto tantissimo esco da questa stanza e come vi stavo mostrando poco fa ce n'è un'altra che è una stanza per un adolescente bambino adolescente insomma bambino ecco vedete qui c'è la postazione insomma così ecco qua e andando avanti sempre altra porta ragazzi il bagno guardate che bello io ve lo mostro così perché secondo me invece di capisco che magari col tab è più dettagliato e tutto però così si fa prima e avete anche una panoramica subito generale della stanza mi piace tantissimo sia per i colori che ha utilizzato così pastello sia perché è veramente completo c'è tutto è una casa in cui veramente appena l'ho visto ho detto io qua non devo aggiungere praticamente niente e concludiamo con l'ultima stanza che questa è proprio per un adolescente invece avete colori un po più dark così ecco magari sulla base poi del carattere dei vari figliuoli vedrò se questa modificarla o meno e devo dire ragazzi che io non amo il rosa ma questo questo divanetto di questo colore messo qua non mi dispiace perché io non l'avrei mai messo a parte perché non amo il rosa ma io tendo no sempre ad abbinare comunque tutti i colori se questa stanza è scura tutti i mobili non dico che dovessero essere scuri perché se no poi era troppo pesante però ecco per esempio qui c'è questo colore così marroni avrei magari abbinato un colore marrone invece lei mi piace tantissimo perché chiara accosta moltissimi colori diversi fra loro e poi riesce sempre a sorprenderti più che per un ragazzo però dall'arredamento che vedo qua deduco che sia per una ragazza comunque vabbè mi piace veramente tanto bellissima bellissima usciamo ripercorriamo il nostro corridoio a ritroso e andiamo da quest'altra parte ovvero qua perché di qua ragazzi come potete vedere c'è un altro arco e c'è un altro corridoio la prima porta che troviamo è il garage e devo dire ragazzi è una chicca fantastica mi piace tantissimo cioè sembra proprio quei garage quelle casette americane che vediamo sempre nei telefilm e è bellissimo perché c'è l'angolo appunto qua della lavanderia e lei l'ha creato proprio ragazzi perfetto a me piace un sacco come lei ha creato questo spazio e anche poi qua no questi mobiletti che di solito nei film americani sono quelli dove loro ripongono gli utensili a seconda di come lo pronunciate così mi piace veramente un sacco è bellissimo poi andando avanti invece da questa parte ormai lo avete già intravisto c'è un altro bagno molto utile anche questo e funzionale mi piace moltissimo il fatto che chiara molte volte anche nelle costruzioni che ha realizzato per la mia serie cucciolosamente piper abbina diciamo due colori di parete diversi che comunque non stonano mai mi piace tantissimo e poi qua accanto un altro bagno ancora perché ragazzi ovviamente una casa familiare c'è sempre bisogno di bagni inutile che ve lo dica se avete una famiglia numerosa potete capire ed è un bagno che ha un no che è un bagno privato in realtà questo ecco mi stavo per sbagliare oddio qua penso che sia sfuggito questo colore qua ma non c'è problema rimedio subito io anche perché tanto avrei comunque cambiato ragazzi perché anche se penso magari più che le pareti cambierò magari i mobili cioè nel senso a livello di colore sempre ripeto e anche qua ragazzi guardate che meraviglia questo bagno che è bianco e nero e qui c'è questa parete nera mentre qua invece vedete questo questo giocare con i colori ed è appunto un bagno privato per la stanza principale la stanza matrimoniale che è bellissima sempre toni molto scuri molto moderna ora ho capito dove le era sfuggito questo bellissima mi piace tantissimo quindi io direi che ringrazio di cuore ancora una volta per l'inesima volta lei non ce la farà più a sopportare tutte le volte in cui io l'ho ringraziata ma ringrazio veramente tantissimo chiara channel questo ha il suo il suo id diciamo il suo nickname per quanto riguarda youtube vi consiglio di andare a vedere la sua serie che ha per protagonista melissa la sua serie è una macinima quindi una video serie realizzata con the sims 4 che ha per protagonista una ragazza di nome melissa e veramente ragazzi ne vedrete delle belle andate 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 veramente sul suo canale e seguitela perché è veramente molto brava e inoltre andate sul suo id origin chiara underscore 88 channel perché realizza delle case ragazzi che sono strepitose ma ora abbiamo visto la casa ve la mostro un'altra volta completa eccola qua eccola bellissima ragazzi veramente molto molto bella ricordo ancora una volta realizzata da chiara channel torniamo a noi adesso perché chi è questo bel tizio dai capelli verdi tutto vestito di verde neanche fosse un beggio e sim ragazzi che sta qui davanti alla porta della sua casettuola ebbene sì lui ragazzi è il protagonista della nostra nox so berry challenge della nostra sfida appunto con i colori lui ragazzi è il nostro adorato creiamo un po di suspense scherzo lui è il nostro adorato milton rainbow il cognome ragazzi rainbow ovviamente l'alcobaleno proprio perché andremo a giocare con i colori in questa challenge perciò mi sembrava un cognome parecchio azzeccato milton perché l'ho chiamato milton ragazzi perché la prima generazione ragazzi è la generazione che ha il colore menta quindi regnerà sovrano questo colore come potete vedere io ho cercato di personalizzarlo il più possibile addirittura ragazzi qua non si vede ma in alcuni vestiti ha i calzini avete presente quei calzini perché al gioco che praticamente sono alti con i rombi immaginate quelli verdi sparati perché appunto erano gli unici che si avvicinavano un po di più al color verde menta io ovviamente questi capelli non sono cioè è un recolor perché ovviamente i capelli del gioco sono questi qua ragazzi hanno questo colore questo delle sopracciglia e siccome il fatto è questo che visto che che visto che olè appunto visto che più avanti avremo anche la generazione verde come colore poi ho pensato se utilizzo gli stessi capelli perché ovviamente menta non mi andava ad usare quelli azzurri ma volevo usare appunto quelli sul verde il verde menta però poi dopo ho fatto cioè ho pensato poi ci sarebbero due generazioni identiche e quindi sono andata ho cercato dei recolor per i capelli e per gli occhi anche ecco qua e appunto ho scaricato appositamente per questa sfida queste cose perché sì io di solito uso comunque gli occhi li avrei scaricati a prescindere perché a me piace comunque come cc avere skin e avere come sapete occhi capelli no non ne sento la necessità perché quelli del gioco sinceramente mi soddisfano ma ma sicuramente fra un po' e poi più avanti vi dirò il perché fra un po' inizierò a scaricarne ragazzi a Iosa solo però capelli Maxis Maxis sempre detto questo vi presento appunto il nostro Milton Rainbow e lui è un giovane adulto si è trasferito a Brindentron Bay nella villetta familiare che è realizzata da Chiara Channel e ragazzi i suoi le sue caratteristiche allora vi leggo le regole della appunto della della sfida per farvi capire un po' com'è il nostro Milton Generazione 1 Menta sei uno scienziato malizioso che ama il colore verde menta la tua carriera sta decollando ma trovi lo stesso il tempo per stupidi scherzi o uscire con i tuoi amici più stretti ami il lusso e vuoi il meglio per te e la tua famiglia Tratti perché io mi perdo quando devo mostrarvi i tratti ragazzi oddio ecco tratti vegetariano materialista geloso eccoli qua ragazzi ovviamente potete vedere lui è un giovane adulto per quanto riguarda invece l'aspirazione ragazzi aspirazione devianza modello di malizia quindi se riusciremo a no dobbiamo riuscire perché ora vi leggo le regole carriera scienziato regole numero 1 raggiungere il livello 10 della carriera di scienziato fattibile numero 2 completare l'aspirazione di devianza modello di malizia quindi no se ce la faremo dobbiamo farcela quindi anche qua dobbiamo risultare sgraditi mi dispiace tantissimo ma povero Milton raggiungere il livello 10 della verità di logica anche questo è abbastanza fattibile quello che mi preoccupa un po' di più in questa generazione è completare la raccolta degli elementi però ragazzi ce la possiamo fare io sento che ce la possiamo fare anche perché lui essendo comunque un uno scienziato ovviamente ragazzi lavorerà tantissimo con quei macchinari che non mi ricordo come si chiama quel macchinario ragazzi ma quello praticamente che può essere molto utile per poter innanzitutto per sviluppare la logica e soprattutto per anche trovare poi i vari elementi quindi ragazzi ce la possiamo fare lui è Milton Rainbow e ragazzi ne vedremo delle belle perché sono sicura che questa sfida ha moltissimo da dare il fatto che ovviamente siamo legati a queste regole non implica che non possiamo fare altro ecco per esempio non mi sono presentata nel gioco con un cagnolino o con un gattino perché comunque non ne parlava nelle regole potevo anche inserirlo però ho preferito non farlo perché ho detto vabbè lo prenderemo adotteremo più avanti nel gioco ma sicuramente ragazzi è una cosa che farò perché non posso stare avendo animali e gatti non posso stare senza la sfida non me lo impedisce perché ho controllato tutte le varie generazioni ho letto prima tutto per essere sicura che non fosse proibita in nessun modo ovviamente ragazzi queste sono regole che io ho trovato senza modifiche relative a cani e gatti un po' perché penso le abbiano scritte prima dell'uscita dell'espansione un po' perché credo proprio che avendo letto appunto i vari obiettivi di ogni generazione proprio se hai un cane o un gatto non va minimamente a influenzare il gioco quindi penso che non l'abbiano modificata in questo senso per questo motivo perciò ragazzi io mi auguro che vi sia piaciuto nell'episodio successivo che è proprio il primo episodio quindi entreremo ufficialmente nella vita del nostro Milton gli faremo trovare un lavoro appunto come scienziato inizieremo a fare interazioni maliziose sono contenta che non siano perfide almeno per ora perché comunque la malizia è una cosa carina non l'ho mai sviluppata tutta fino in fondo quindi sono curiosissima e ripeto questa sfida ha moltissime potenzialità perché molto da vedere e molto da fare proprio perché devo dire non ho mai alcune alcune aspirazioni alcuni obiettivi che sono proprio caratteristici delle varie generazioni non li ho mai sviluppati e quindi sarà divertente inoltre ragazzi sono amante tantissimo dei colori quindi sarà divertente abbinare appunto queste due cose una challenge che io amo le challenge ragazzi veramente fino alla nausea ci giocherei perché è un modo per giocare a The Sims comunque diverso che non è il solito let's play comunque e comunque continuo a mettersi alla prova quindi non vedo l'ora di iniziare con voi spero che Milton vi piaccia io devo dire ne sono rimasta soddisfatta è un periodo ragazzi che realizzo dei simmini maschi soprattutto perché le femmine ho più la mano diciamo è un periodo che realizzo simmini maschi che non mi dispiacciono per niente quindi spero piaccia anche a voi vi ricordo ancora e ringrazio ancora Chiara Channel per questa splendida casa nel prossimo episodio la vedrete un po' modificata ripeto non nella struttura quanto nei colori perché ovviamente voglio rispecchiare il più possibile il color menta e la casa verrà via via stravolta ma non tanto nei mobili quanto ripeto nei colori magari potrò aggiungere qualcosina così però niente di che più che altro appunto ripeto a livello di colore quindi tutto qua e nel prossimo episodio appunto magari vedete non so i divanetti su quel colore insomma ora vediamo un po' ragazzi qualcosa ci inventiamo ovviamente sarà un po' difficile per il color menta perché mi sono resa conto che non è proprio facile vestirlo con questo colore anche a livello di vestiti non c'è granché ma non ho intenzione di scaricare vestiario ragazzi perché almeno per il momento il vestiario no sicuramente una cosa che non andrò mai a scaricare sono i mobili perché da quanto io ho capito correggetemi se sbaglio questa è un'informazione che chiedo a chi gioca con The Sims ma più che altro per il livello di curiosità da quanto ho capito i CC che creano problemi in realtà sono quelli appunto di mobili cioè non quelli inerenti al CAS ma quelli inerenti appunto a il mobilio le cose per esempio per i vari oggetti per la modalità costruisci quindi tutto ciò che è arredamento è modalità costruisci fondamentalmente ragazzi non so se è vero ditemi voi se è effettivamente così o se non lo è più che altro per curiosità perché magari un domani più avanti non so magari ecco per il let's play vediamo un attimo potrei effettivamente prendere qualcosina non lo so queste sono mie paturnie ora non vi voglio assillare detto questo ragazzi mi auguro che vi sia piaciuto lasciate un commento se la sfida vi interessa se siete curiosi di vedere come vivrà la sua vita il nostro povero Milton che è la mia cavia povero Milton però dai su non è tanto male gli obiettivi della prima generazione devo dire non sono malaccio vivrà una bella vita troverà una moglie avrà dei figli fondamentalmente deve solo attenersi a quella a questa cosa qua cioè a quelle regole quindi dovrà fare lo scienziato ce lo vedo pure è malizioso uno scienziato un po' pazzo magari quindi ragazzi se vi è piaciuto like al video e ovviamente lasciatemi un commento perché i commenti mi fanno sempre tanto piacere tuttavia ragazzi se questa challenge non dovesse essere di vostro gradimento mi dispiacerebbe molto perché da una parte perché ho pensato appunto di farvi questo piccolo regalo a Natale inserendo questa nuova challenge però mi rendo conto magari che non è tutto tipo a piacere quindi per chi non dovesse interessare questa sfida ricordo che sul mio canale sono presenti moltissimi altri challenge e diverse serie abbiamo la legacy challenge Redfield la legacy challenge classica con la famiglia Redfield la Disney legacy challenge la rex story ci sta alla povertà e la ricchezza e la 100 baby challenge oltre ovviamente a questa la not so berry challenge per quanto riguarda invece le serie abbiamo casa supply le avventure di Edoardo e Camilla cucciolosamente Piper che è appunto la nostra veterinaria di Brindleton Bay e le sue famigliole che abitano Brindleton Bay che sono state create eccola qua Chiara on the score on the score perfetto ragazzi in diretta in diretta se volete andare andate sul suo profilo a scaricare tutte le case del mondo è bravissima cucciolosamente Piper dicevo dove abitano anche delle famiglie che mi sono state gentilmente donate realizzate da alcuni youtuber che tra poco andrò a citarvi perché nella fine di ogni mio video ragazzi io devo elencare sempre e comunque i miei amici youtubers perché veramente se lo meritano e Crypto Addicted che è la mia serie sempre di The Sims 4 realizzata però con la Playstation 4 quindi la versione per console quindi ragazzi iscrivetevi al mio canale perché c'è molto da vedere e come vi dicevo poco fa non iscrivetevi solo al mio canale ma anche ai canali dei miei amici youtubers che sono Dreamlike Moon che fa gameplay con The Sims 4 e The Sims Medieval che ha realizzato per me nella serie cucciolosamente Piper la famiglia danese e la famiglia d'Angelo barra Galli e la ringrazio davvero tanto Jay Seymour che fa gameplay con The Sims 4 Galaxy Sims che fa gameplay con The Sims 4 Lil Grace Simmers che fa gameplay con The Sims 4 e altri videogiochi e per me è realizzato all'interno della serie cucciolosamente Piper la casa allora la famiglia la sua famiglia ovvero le ragazze Smith e la loro casetta se volete scaricare dare un'occhiata anche al suo ID su Origin potete andare grazie a 975 la trovate sotto questo nickname Heroic All che fa gameplay con The Sims 4 e altri videogiochi e la ringrazio ancora perché mi ha dato lei la spinta per poter portare sul canale questa sfida in quanto anche lei l'aveva iniziata allora mi sono detto ma sì dai sarebbe anche carino avere due serie magari che vanno di pari passo iniziate da poco anche per confrontarmi un po' con lei spero le farà piacere mi aveva detto di avvisarla se l'avessi iniziata se l'avessi pubblicata comunque quindi grazie mille e poi c'è la carissima Chiara Channel che non solo ha realizzato questa casa io l'ho presa dalla sua galleria non l'ha realizzata per me questa era proprio già creata da lei io l'ho scaricata con piacere perché l'ho vista me ne sono innamorata ma per me invece ha realizzato la famiglia Taylor la famiglia Robinson le case per la famiglia Taylor e la famiglia Robinson e ha realizzato anche le case per la famiglia danese e la famiglia Galli barra D'Angelo quindi lei è la mia creatrice praticamente ufficiale di case ragazzi la ringrazio davvero tanto e lei andate sul suo canale come dicevo prima perché realizza appunto le macinima ovvero delle video storie con The Sims 4 per quanto riguarda invece la Playstation 4 ragazzi perché non ci facciamo mancare niente abbiamo Date Gamer e Dragon Animo Invisibile loro fanno veramente ragazzi portano sui loro canali un sacco di videogiochi un sacco di titoli bellissimi Skyrim Fallout Bloodborne Far Cry cioè veramente ragazzi andate a vedere perché sono bravissimi simpaticissimi meritano un sacco le vostre viste iscrivetevi ai canali di tutti loro trovate come sempre in ogni mio video pubblicato riguardante qualunque challenge riguardante qualunque serie i link dei loro canali in descrizione trovate il mio di Origin trovate tutti i modi per contattarmi possibili immaginabili e trovate ovviamente la mia pagina Facebook insomma tutto questo e trovate ovviamente anche tutte le playlist relative a tutte le mie sfide e a tutte le mie serie io ragazzi vi ringrazio vi auguro una buona giornata una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio vi rimando al prossimo che è il primo ufficiale quindi state pronti perché Milton Rainbow sta per entrare nelle vostre vite e speriamo sta qua per divertirvi ragazzi spero sia qui per divertirvi quindi ragazzi alla prossima un abbraccio grande buone feste buon Natale godetevi veramente questa giornata con le vostre famiglie con i vostri amici con chi volete auguri a tutti voi anche a le vostre famiglie insomma a tutti i vostri amici a tutti e come sempre sul sul simmers e non